L'appello è di ricordarsi di noi tutti i giorni, al nostro datore di lavoro. Ci sembra impossibile che un datore di lavoro che si fa così bello sulla nostra pelle poi si dimentichi completamente che ci siamo anche tutti gli altri giorni. Noi non chiediamo dei soldi per noi, per i nostri mezzi, per le nostre attrezzature. Noi le chiediamo per le attrezzature di tutti, perché queste attrezzature che sono qui le paga il cittadino, ne usufruisce il cittadino. Anche i Vigili del Fuoco di Arezzo, assieme ai colleghi di tutta Italia, in protesta per inviare così al governo un forte segnale del proprio malessere. Il CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, ha infatti proclamato per sabato 9 dicembre quattro ore di sciopero nazionale, dalle 9 alle 13. Chiediamo l'equiparazione con gli altri corpi dello Stato. Equiparazione economica, pensionistica e soprattutto con la Polizia, che fa parte del nostro stesso Ministero, quindi possiamo definire quasi cugini da un certo punto di vista. Però è giusto sapere che un poliziotto prende circa 300 euro in più al mese in media di un Vigili del Fuoco. E per noi non ci sembra che il nostro impegno valga 300 euro in meno dell'impegno di un poliziotto o di qualunque altro corpo dello Stato. Per noi sarebbe importante che lo Stato si ricordasse di noi, anche nei giorni in cui fortunatamente, speriamo che sia la maggioranza, che non succede niente. Però per noi sarebbe importante, già è difficile per noi affrontare le calamità e non vorremmo che le calamità venissero dal nostro stesso Stato, perché è sotto gli occhi di tutti che i mezzi che escono dalle casembre dei Vigili del Fuoco hanno un'età media superiore all'età dei Vigili del Fuoco in servizio, che già è altissima. Chiedete anche delle assunzioni, anche un turnover? Sì, assolutamente, chiediamo assunzioni, chiediamo un sistema pensionistico per lo meno adeguato, in linea con gli altri corpi e chiediamo assolutamente personale più giovane e più fresco. Il servizio è stato garantito comunque anche nelle quattro ore di sciopero. Chiamiamolo uno sciopero impropriamente silenzioso, diciamo, se il soccorso tecnico urgente è garantito sempre. La nostra unica forma di sciopero è questa qui.